Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video breve, annuncio per il canale. Io sono TandorGameriAT e oggi volevo annunciarvi nuovi contenuti che porterò sul canale ogni tanto. Dunque, iniziamo subito. Ve li elencherò qui. Allora, porterò, come avete visto, Formula 1 2016 per PS4 e PC, o è uguale, e poi porterò GTA V e un attimo, che ci penso, porterò qualcos'altro. E sì, ovviamente porterò The Forest. Quindi questi saranno tre contenuti. The Forest, GTA V e Formula 1 2016. Comunque, questo era un piccolo video, solamente per annunciarvi che cambierò di nuovo contenuti perché ero incerto sugli altri contenuti perché portavo solo GTA, The Forest, GTA, The Forest. Poi è stato aggiunto Formula 1 2016. Se vi siete persi alla live ve la lascio qui sotto in descrizione. E che dire, nient'altro. Non mi resta favorabile. Buona giornata. E noi, beh, ci perchémo al prossimo video. Bella.